Due persone aggredite, un cane barbaramente ucciso, abbandonato in strada e la convocazione urgente della ditta incaricata al servizio di accalappiamento da parte dell'assessore Florinda Iudici. Sono questi gli episodi che hanno riaperto, nelle ultime 48 ore, la questione randaggismo. Lo stesso artista, Giovanni Iudice, nell'accusare di incapacità alla Giunta Greco, ha chiesto le dimissioni del sindaco. Anche sui social è scoppiata la polemica per via di post in cui si promuove l'uccisione di poveri animali, scatenando l'indignazione degli animalisti. Sono mesi ormai che i cittadini chiedono un intervento ed una partecipazione attiva da parte del Comune, che però ad oggi sembra non avere ancora trovato una soluzione. Da quasi 15 giorni circa, infatti, è stato attivato dalla società Dog Service il servizio di accalappiamento cani, così come quello di sterilizzazione, ma visti gli ultimi eventi, chiaramente qualcosa non sta andando per il verso giusto. L'assessore all'igiene, Florinda Iudici, si dice adirata e attribuisce le colpe di questo disservizio alla società competente. Plurime e sempre più frequenti sono le lamentele, soprattutto dei residenti della zona di Macchitella, i quali richiedono maggiore controllo ed una partecipazione attiva della Dog Service del Comune, al fine di scongiore situazioni più gravi e pericolose. Risale due giorni fa l'aggressione ad un sessantenne e ieri, sempre a Macchitella, ad una ventunenne, la quale è dovuta ricorrere alle cure mediche per via delle ferite riportate. La situazione purtroppo sta degenerando, gli attacchi da parte dei cani sono sempre più frequenti e questo sta determinando anche un aumento di azioni particolarmente violente nei confronti degli stessi animali, vittime solo di una cattiva amministrazione e gestione della questione. A sostegno di ciò, ieri sera è stato denunciato il ritrovamento di un cane trascinato e barbaramente ucciso da un'autovettura lungo la Gela Catania. Non si conoscono però i nomi dei responsabili.